Buongiorno, noi abbiamo parlato diverse volte della questione dei rifiuti per tante occasioni recentemente, ultima, quella più importante, che in pochi anni e grazie al porta a porta siamo passati dal 53% di raccolta indifferenziata all'87%. Allora noi abbiamo chiesto ad una famiglia, che naturalmente rispettiamo la sua privacy e non facciamo vedere il nome, di darci le bollette dei tre anni 2017, 2018, 2019, in modo che tutti noi possiamo constatare realmente cosa è successo alle loro bollette, tenuto conto che 2014, 2015, 2016 per tutti i tre anni le bollette erano aumentate come minimo del 10% all'anno. Qui abbiamo la bolletta del 2017, parliamo di un'abitazione a uso domestico di 114 metri quadrati nella quale abitano due persone. La tariffa annuale, pagabile in due 187 euro. La stessa famiglia nel 2018, gli stessi 114 metri, le stesse due persone, la tariffa pagata è questa, 274 euro. Quindi con una leggera diminuzione ma non un aumento, una leggera diminuzione. La bolletta per il 2019 è sempre della stessa famiglia, sempre gli stessi 114 metri, sempre due utenti, è 200 e questa, con un ulteriore calo ancora. Per cui noi abbiamo avuto, che possiamo dire nei tre anni, un decremento del 5% annuale.